L'integrazione tra medici di famiglie e specialisti e l'appropriatezza prescrittiva e delle prestazioni. Temi sui quali i medici della provincia hanno discusso stamane a Sant'Angelo dei Lombardi. Un aggiornamento costante per rispondere con più incisività alle necessità dei pazienti. Dopo l'introduzione del Presidente dell'Ordine dei Medici Irpini, Antonio Davanzo, i saluti delle autorità, il dibattito si è soffermato anche sui livelli di assistenza territoriali offerti attualmente dal sistema sanitario. Che cosa noi con questo convegno vogliamo dare, quale messaggio vogliamo dare? Innanzitutto è quello della migliore applicazione delle varie delibere regionali perché ci possano essere risorse, possono essere meglio redistribuite le risorse e meglio impiegate. È importante quindi l'appropriatezza delle risorse che non è solamente quella farmaceutica ma un poco di tutte le risorse e deve essere un canto corale. Oggi quindi cercheremo l'intesa anche non solo con i medici di famiglia ma con tutti i protagonisti della sanità irpina, i medici ospedalieri, i medici territoriali, ambulatoriali perché ci possa essere un coro che praticamente possa dire la stessa cosa. L'obiettivo è quello di risparmiare, sì, ma soprattutto reinvestire perché curando meglio oggi è un'aspettativa per le generazioni future. Ricordiamo che c'è stata la chiusura dell'ospedale di Bisaccia e qui siamo in Alta Irpinia quindi è ancora fortemente sentito. I risparmi naturalmente sono stati non reinvestiti ma i risparmi sono stati circa 50 milioni di euro in tre anni sono stati restituiti a Napoli. Invece quello andava reinvestito sul territorio. Questo poi è il messaggio che noi vogliamo. Quindi un potenziamento della sanità in Irpinia e quello che può essere riallocato, risparmiato, deve essere riallocato. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare. È entrato nel merito del confronto di oggi il professor Giovanni Di Minno il quale ha tenuto una relazione tecnica sulla proprietà prescrittiva. La proprietà prescrittiva e il modo corretto di prescrivere farmaci rappresenta uno dei momenti fondamentali nel rapporto medico-paziente. rappresenta il momento nel quale il medico dà il proprio suggerimento al paziente. Il paziente che ha questa, come posso dire, che delega questo momento importante della propria vita al medico, riceve questa prescrizione e comincia ad applicarla. Il punto della proprietà è molto serio in sé ma è molto importante soprattutto tenere conto di ciò che viene poi. Mi riferisco in particolare all'aderenza alla terapia cioè alla maniera reale del paziente di rispettare quello che ha concordato con il proprio medico. Questo rappresenta una fase successiva che non costituisce argomento di discussione oggi ma che normalmente va preso in seria considerazione per quanto riguarda lo stesso concetto di appropriatezza che eventualmente viene minato dalla insufficiente aderenza alla terapia messa in piedi successivamente. Oggi è importante iniziare da questa base per creare consapevolezza nel medico di quelle che sono le reali necessità e i reali bisogni del nostro quotidiano da un lato e dall'altro lato per creare rapporti sempre più vicini un riavvicinamento reale fra medico e paziente nel tentativo di dare una idea comune un messaggio comune al sistema sanitario.